Sono stati condannati anche per aver fatto le corna alla polizia 88 dei 126 imputati in OTAP. Le pene vanno dai tre mesi a tre anni e due mesi di reclusione per un totale di oltre 77 anni. Erano accusati a vario titolo di oltraggio, resistenza pubblico ufficiale, violenza o minaccia pubblico ufficiale, danneggiamenti e getto pericoloso di cose. Tra gli episodi avvenuti tra il 2017 e il 2018, il lancio di uova piene di vernice contro la sede della multinazionale. Le offese indirizzate a Matteo Salvini alle forze dell'ordine durante la visita del 15 febbraio del 2018 a Martano, i muri umani organizzati per impedire ai lavoratori e ai mezzi della società di raggiungere il cantiere e il mancato rispetto del provvedimento con il quale il questore imponeva il divieto di avvicinamento nei comuni di Melendugno e Lecce e poi le scritte sui muri durante un corteo per la città di Lecce. Il giudice Baffa ha inoltre disposto risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a TAP, parte civile al processo. Intanto sul fronte opposto resta aperto il processo nei confronti della multinazionale trans-adriatic pipeline accusata di disastro ambientale per il cromo esavalente ritrovato nella falda idrica in prossimità del cantiere.